Su sollecitazione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, che ha fatto rilevare uno sforamento del tetto del 3,5% sulla spesa farmaceutica ospedaliera stabilito dalla conferenza Stato-Regioni, la presidente Catiuscia Marini ha affermato in terza commissione che si tratta di un dato non fondato perché se è virtuoso diminuire l'uso dei farmaci è certamente una buonissima pratica quella di aumentare l'uso degli oncologici e degli oncoematologici che inevitabilmente comporta un aumento della spesa farmaceutica ospedaliera. Inoltre, ha aggiunto la presidente, siamo al limite della decenza per quanto riguarda il nuovo farmaco che cura l'epatite di tipo C. Nessuna regione lo prescrive e dovremmo anche rimborsare chi lo va a comprare in Francia. Ecco perché è sbagliato il tetto del 3,5%, non tiene conto della propriatezza delle cure per l'oncologia e l'epatite. Per quest'ultima si dovrebbero spendere in Umbria circa 6 milioni di euro in più. Ma, ha detto la presidente Marini, è una battaglia da fare. La presidente ha spiegato anche che in presenza dei raggruppamenti omogenei di diagnosi che in Umbria sono solo il 2%, la spesa farmaceutica si vede tutta sulla parte pubblica, ha detto, mentre altre regioni spendono molto di più ma non risulta perché tali cifre sono comprese fra quelle in convenzione. Per Zaffini lo sforamento umbro del tetto di spesa farmaceutica, attestato al 4,7%, rimane un dato grave anche se comprende il privato.